A tutti bisogna dare la possibilità di passare all'altra riva, soprattutto quando quest'ultima simboleggia il passaggio verso una vita slegata dalla criminalità, dalla violenza e poter rinascere, lasciandosi alle spalle un terreno definito dall'autore Don Benito Giorgetta accidentato. L'intendimento del libro è non solo fare una denuncia di malavita o di azioni non corrispondenti a quello che è il rispetto del convivere sociale, ma soprattutto una speranza, cioè un auspicio di passare all'altra riva, cioè cambiamento di condotta, di prospettive, di cultura, di aggiornamento di se stessi e di risurrezione da ogni tipo di morte che si è avvertita in se stessi, perché chi si fa promotore di azioni malavitose evidentemente ha in se stesso delle problematiche. Nell'opera di Don Benito c'è una lunga intervista a Luigi Bonaventura che è cresciuto nell'ambiente mafioso e da un po' di anni è diventato un collaboratore di giustizia, è passato all'altra riva. L'evento, che rientra nel ciclo di seminari dal titolo Incontri con l'autore, cade in un momento storico importante per il nostro paese, la cattura pochi giorni fa di Matteo Messina Denaro. Don Benito ha dialogato con gli studenti spiegando che ci sono dei loro coetanei che vivono in un sistema criminale e non lo riconoscono come tale, ed è importante invece conoscere queste realtà per potersi preservare. I giovani di oggi vivono troppo immersi e sommersi da un mondo virtuale, dobbiamo far riconoscere loro che c'è un mondo reale, che è diverso da quello virtuale e quindi devono prendere consapevolezza attraverso un'azione di conoscenza e quindi di approfondimento di come realmente va la società di oggi. Ha moderato l'incontro il giornalista Emanuele Bracone ed è intervenuta anche la dirigente Maria Concetta Chimisso. I cicli dell'incontro con l'autore, che per quest'anno scolastico si chiudono oggi con la gradita presenza di Don Benito, hanno lo scopo di dire ai ragazzi, attenzione, la criminalità organizzata, proprio perché è organizzata, è pervasiva, e dovunque nella società, è il vostro vicino di casa, è un compagno di banco, sono fenomeni terribili, devastanti, che noi dobbiamo contrastare per un'etica della giustizia ma anche per garantire una società migliore, una qualità migliore ai nostri ragazzi.